Sono qui per vedere un uomo che deve portarmi al confine. Vieni da Ovest, vero? So che le cose vanno male da quelle parti. La gente si sta scannando. Perché vai al confine? È un posto strano da scegliere come metto. È un'occasione unica nella vita. Che cos'è? Avvicinati! Vieni a vedere! È oro. Abbiamo trovato una montagna d'oro! Uno di noi due dovrà rimediare un escavatore. Credo che resterò con loro. Cerca di non finire l'acqua. E riparti dal sole. In questo posto non si scherza. Quanto ci metti? Sto facendo più in fretta che posso! Sei qui tutto solo? Devi andartene. In questo posto, le cose iniziano a essere davvero strane. Lei chi è? Dove sei? T'ha visto l'oro! Credo che tu nasconda qualcosa. Devi liberarti di lei! Dove sei? Sono vicino! Ho fatto la mia parte! L'ho trovato! È mio! No! Posso farcela. È mio! Cosa! Cosa da? Inc 2000